Musica A po' d'occhio parte oggi una nuova rubrica che si chiamerà botta e risposta con il sindaco parleremo con i diversi sindaci dell'area nord di Napoli e chiederemo ai cittadini che cosa pensano del sindaco o del sindaco della loro città e i nostri intervistati avranno a disposizione 20 secondi circa per rispondere in maniera lapidaria. Signora cosa pensa dell'operato del sindaco De Luca qui a Qualiano? Allora al momento non ho idee chiare però so dire solo che Qualiano fra dieci anni sarà un paese morto deserto soltanto di vecchi, popolato soltanto da vecchi. Poche occasioni di svago e di aggregazione secondo lei? Zero, zero, zero assolutamente. Il primo è mio figlio che è andato fuori a studiare e con lui una marea di qualianesi e penso che mio figlio non torni proprio più a Qualiano. Non c'è lavoro e stiamo in disoccupazione senza lavorare da due anni e non c'è futuro sinceramente. Il servizio pullman non funziona. Io ieri sono stato quasi due ore sulla fermata del pullman. Chi non ha la macchina è segregato qua. Basta. Continuiamo il nostro giro per Qualiano. Allora lei che cosa ha da dire al sindaco De Luca? Di fare un po' in più di quello che sta facendo. In che ambito in particolare? Un po' di pulizia, un po' di qualche cosa perché qualcuno si lamenta ancora qualche piazza che è rimasta un po' arretrata. Si trovano anche delle siringhe per terra a terra. Piazza Lino Bicchese qua dietro qua. Sono andato a verificare che ci sono delle siringhe a terra, ci sono i bambini, tutte queste cose qua. un po' di attenzione in più. Io sono contento del sindaco, quello che sta facendo, un po' di collaborazione in più. Lui con tutto lo suo staffo, eccetera. Eccolo qua. Io mi voglio complimentare col sindaco in cui ha messo dei locali a Via Roma a disposizione dei ragazzi che vogliono aprire un'attività commerciale. E niente, niente di più. Né più e né meno. Amici di Colpo d'Occhio, abbiamo dunque ascoltato i cittadini qualianesi per questa prima puntata di Botta e risposta. Adesso andiamo dal sindaco Ludovico De Luca e vediamo che cosa risponderà alle rimostranze dei cittadini. Seguiteci. Daremo al sindaco tramite questa pendrive le interviste che abbiamo realizzato. Seguiteci. Buongiorno. Salve, il sindaco è disponibile? Grazie. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Gianluca Russo, Colpo d'Occhio, Web TV. Salve, noi abbiamo realizzato delle interviste ai cittadini qualianesi sull'operato per sapere cosa ne pensassero del loro sindaco, Ludovico De Luca. Le va di guardarle e di esprimere un parere? Mi hanno promosso. Lo vedremo tra poco. Allora, vediamo che cosa dobbiamo fare. Io le do questa pendrive e lei la inserisce e vediamo. Vediamo che cosa ci dicono. Cosa ne pensano? Sì, siamo le Iene Campane, una nuova razza di Iene. Le Iene Nostrane. Sì, sì. Allora, al momento non ho idee chiare, però so dire solo che Qualiano fra dieci anni sarà un paese morto, deserto soltanto di vecchi, popolato soltanto da vecchi. Poche occasioni di svago e di aggregazione secondo lei? Zero, zero, zero assolutamente. Il primo è mio figlio che è andato fuori a studiare e con lui una marea di qualianesi. E penso che mio figlio non torni proprio più a Qualiano. Poche occasioni di svago sollevata dalla signora? A me della signora preoccupa anche un altro dato. Quando lei dice che Qualiano fra dieci anni è morto, questo qua è il dato preoccupante. Perché per lo svago diciamo che noi ci stiamo attrezzando. In questo ultimo periodo ci sono state una serie di occasioni di svago. Anche con la chiusura della strada di Via Rosselli in particolare, la quale tutte quante le domeniche di quest'ultimo periodo, 4-5, è diventata isola pedonale e ha accolto tanta gente. Poi ancora diciamo che qualcosa si sta facendo, tanto è vero che credo che a brevissimo, uno o due giorni partirà anche il wifi nelle piazze. Che comunque è un modo per aggregare, per far stare insieme i ragazzi e stiamo pensando ad un'idea rivoluzionaria per la villa comunale. Mentre invece, come dicevo, mi preoccupa i dieci anni, la signora dice fra dieci anni Qualiano sarà morto? Beh, io credo e spero che non sarà così. Abbiamo perso sicuramente tanto tempo che però stiamo recuperando alla grande in questo primo anno di amministrazione. Certo, noi abbiamo fatto un programma che è da completarsi in cinque anni di amministrazione, non in un anno. Però siamo soddisfatti per quello che abbiamo dato nel primo anno e sono convinto che da qui a dieci anni Qualiano assolutamente non sarà morto ma sarà più vivo che mai. Andiamo avanti? Eh beh, certo, speriamo che non ci dicano sempre che Qualiano è morto. Siamo rovinati, non c'è lavoro e stiamo in disoccupazione senza lavorare da due anni. Non c'è futuro sinceramente. Quasi due ore sulla fermata del pullman. Chi non ha la macchina è segregato qua. Basta. Problema trasporti sollevato dal signore. Sì, problema trasporti che è già stato affrontato con la provincia. O meglio, diciamo che il problema trasporti è un problema che è di competenza provinciale, non è di competenza locale. Noi l'abbiamo affrontato con la provincia e con la CTP che è competente per il territorio e abbiamo già concordato anche un potenziamento delle linee che appunto servono il nostro paese. Però questo fino adesso non è avvenuto in quanto ci deve essere, ci sarà una cessione di 950 mila chilometri da parte dell'ANM alla CTP. Una parte di questi chilometri da percorrere chiaramente saranno messi a disposizione dei cittadini di Qualiano. È un caso ma io venerdì prossimo alle 3 ho appuntamento appunto con l'ingegner Ratto che è l'amministratore delegato della CTP appunto per sollecitarlo rispetto a questa azione che bisogna fare sul territorio. Perché io non voglio fare guerra anche alla CTP ma se necessario la faremo. Proseguiamo. Continuiamo il nostro giro per Qualiano. Allora lei che cosa ha da dire al sindaco De Luca? Di fare un po' di in più di quello che sta facendo. In che ambito in particolare? Un po' di pulizia, un po' di qualche cosa perché qualcuno si lamenta ancora qualche piazza che è rimasta un po' arretrata, si trovano anche delle siringhe per terra a terra, piazza Lino Bic che si fa dietro qua. Sono andato a verificare che ci sono delle siringhe a terra, ci sono i bambini, tutte queste cose qua. Diciamo un po' di attenzione in più. Io sono contento del sindaco quello che sta facendo. Un po' di collaborazione in più. Diciamo lui con tutto lo suo staffo. Allora qui si parla di sicurezza nelle piazze e manutenzione delle piazze stesse. Dunque, intanto diciamo che grazie anche ai volontari, grazie agli amministratori, agli assessori che si sono praticando in prima persona, tutte quante le piazze o la stragrande maggioranza di queste sono state rimesse a nuovo. E questo vale anche per piazza Nino Bic, la quale è stata pulita, è stata manutenuta ed è stata consegnata ai cittadini nella piena efficienza. Certo è che se i cittadini non collaborano e non controllano le piazze come tutti quanti i luoghi di quali hanno, fra un mese e fra due mesi ci ritroveremo punto e a capo. Però, coscienti anche di questo problema, noi abbiamo nominato un responsabile delle aree esterne, il quale si occuperà di vigilare e di curare la manutenzione di tutte quante le aree esterne. Dico anche che il responsabile è il dipendente Nicola Marrone, a quale devo dire grazie, perché oggi molti di questi interventi vengono fatti anche grazie alla sua supervisione. Quindi diciamo che quali hanno sotto questo aspetto sta avendo una rivoluzione, perché parte piazza Nino Bic, la stessa piazza Santa Maria delle Grazie, ha visto il suo momento di splendore che coincide con questi giorni, perché si sta rimettendo a nuovo anche quella piazza, così come le altre. Andiamo avanti. Va bene. Io mi voglio complimentare col sindaco in cui ha messo dei locali a Via Roma a disposizione dei ragazzi che vogliono aprire un'attività commerciale. E niente di più, né più e né meno. Sì, un complimento, anche se è paradossale, perché noi abbiamo fatto un bando per mettere a disposizione i locali di proprietà del Comune, a disposizione dei giovani, per far realizzare loro delle attività imprenditoriali, delle attività anche ricettive degli stessi giovani. La cosa paradossale è che nessun giovane ha partecipato. Noi abbiamo pubblicato il bando per due volte e io tengo sempre a dire che ragazzi, noi lo ripubblicheremo questo bando. Tenete presente che il fitto è risorio, si tratta di 50 euro, 60 euro, 70 euro al mese. E c'è da aggiungere un'altra cosa, che essendo questi locali di proprietà dell'ente, l'ente poi non verrà mai a chiedere lo sfratto, non verrà mai a chiedere la restituzione dei locali. Per cui si diventa, non voglio dire di proprietà, però c'è realmente la possibilità di sviluppare un'attività. Questi locali al momento sono in parte utilizzati da un'associazione e in parte utilizzati anche da alcuni anziani, ai quali anziani noi abbiamo chiesto il sacrificio di metterli a disposizione dei ragazzi, dei giovani, proprio per dare la possibilità ai giovani di creare un futuro, di crearsi il futuro. Devo dire che gli anziani hanno accettato questo sacrificio, quindi rinunciano tranquillamente a questi locali, per cui ci sono tutte quante le condizioni per fare bene. Ragazzi, datevi da fare, l'amministrazione non può creare posti di lavoro perché non è uno stabilimento industriale, può creare occasioni di lavoro e questa è un'occasione di lavoro per, non so adesso, 3, 4, 5, 10 ragazzi i quali vorranno intraprendere un'attività sul territorio. Bene, noi ringraziamo dunque il sindaco Di Qualiano. Grazie sindaco. Grazie ragazzi, ci vediamo la prossima volta, spero il più tardi possibile perché le Iene non è che portano sempre bene. E noi siamo un po' le Iene della provincia nord di Napoli. Grazie al sindaco De Luca, è tutto per questa prima puntata di Botta e risposta, alla prossima.